E' Dante, a Fabio Mantese, e a tutte le ragazze carine, e a tutte le ragazze un po' meno carine, e a tutti gli smerigli che sono presenti qua dentro perché in fondo tutti quanti siamo un po' smerigli, tutti quanti siamo un po' smerigli, vai Franco, vai Franco, dopo figliamo che chi è Franco, se c'è tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un disservizio dei misteri, ori 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 ori, questo è... Un disservizio dei misteri, ori 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 ori, uno smeriglio di Gendarmeria, uno smeriglio di Gendarmeria. Che c'è anche. Ascoltami, osoppo, un mio potere, regnante, è un rapace piacere. Ascoltami, osoppo, un mio potere, regnante, è un sogno, sonoppo, spero per te, sia cosa importante. Ascoltami, osoppo, un mio potere, regnante, è un sogno, sonoppo, spero per te, sia cosa importante. Ascoltami, osoppo, un mio potere, regnante, è un sogno, sonoppo, spero per te, sia cosa importante. Reaching our pain Ascoltami 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 Ascoltami